È arrivato il momento di parlare di Smile Ci sono delle cose interessanti da dire su Smile Diciamole Ciao carissima Luisa Come stai? Benvenuta, un applauso Se sei venuta per Smile sei arrivata nel momento giusto Non ci saranno spoiler Pronti? Al cinema Allora ragazzuoli miei Questo è il trailer italiano di Smile È un film horror psicologico soprannaturale Scritto in diretto da Parker Finn Qui ha il suo primo film Prima di questo film ha fatto solo due cortometraggi Allora c'è questa dottoressa, come si chiama? Rose? Rose Cotter Anzi ce l'ho anche qua, guardate Rose Cotter Perché mi hanno dato anche il braccialetto per farmi ricoverare La dottoressa Rose Cotter lavora un sacco È una psichiatra Lavora un sacco Ottanta ore alla settimana Una cosa devastante In questo ospedale psichiatrico Dove arrivano casi veramente gravissimi Una gente proprio psicopatica, pesante Un giorno arriva una ragazza Che ha assistito a un suicidio Assistito a un suicidio? E questa ragazza che vedete anche nel trailer A un certo punto impazzisce E viene in sorriso da pazza Beh gli racconta che c'è qualcosa di malefico Che la perseguita Succederanno delle cose Insomma da quel momento Dall'incontro con questa ragazza Il male arriverà nella vita Dalla dottoressa Cotter Christian Lake ha detto una roba giusta Ha detto sette giorni Perché lo dice anche nel trailer Sette giorni mi ricorda qualcosa Effettivamente questo film Ha una trama Che non si sforza molto di essere originale È proprio lo stesso plot Lo stesso tipo di Di meccanismo Malefico Che c'è In Obbligo Verità O in It Follow O in The Ring O in Final Destination Quindi tutti questi film qua A questo livello di trama Anche se Final Destination È un bel film The Ring Comunque è un bel film C'è un'altra associazione Che io voglio fare Riguardo a Smile Cioè quella dei film Horror un po' Diciamo commerciali E pertinigio Insomma horror Diciamo poco sofisticati Con tanti Jump scare Scene un po' così Dovrebbero spaventare Ma poi non c'è Non c'è la struttura Diciamo nella storia E nei personaggi E nei dialoghi Per poi creare Quell'atmosfera lì Lo associo a questo tipo di film Quindi anche robe tipo Polaroid per esempio O C'era un altro Su un'app Che ti faceva morire Ti diceva quando morivi E boh Una roba del genere Questo tipo di film Sono tutti un po' Un po' simili Ma questo Somiglia sì Effettivamente a questo tipo di film Un po' così scadenti Quindi non mi sto riferendo A The Ring Final Destination O It Fall Ma piuttosto a film come Obbligo Verità Come si chiamava quello dell'app Ragazzi Non me lo ricordo Punto Polaroid Che non sono un granché Come film Però Se per certi versi Tecnici E di scrittura Assomiglia a questi film Ci sono altri aspetti In realtà positivi Quindi mi sono trovato Comunque di fronte a un film E qui ve lo dico Ciao Serrappa Qui ve lo dico Un film che Per me Questo non è un film Che potrei definire Buono È un film È un film che raggiunge Appena appena La sufficienza Poi dipende Che tipo di cinefile siete Cinefilo siete Perché C'è comunque Una grande fetta di pubblico Che non ha nessuna voglia Di vedere film Cerebrali Psicologici Profondi Con tematiche Psicologiche Profonde E E importanti Ma cercano Un cinema horror Un po' più Leggero Che Che si concentri Di più Sul creare Appunto situazioni Di jumpscare E cose del genere Non possiamo evitare Che esista Questo tipo di cinema Però Questo tipo di cinema Si può fare Comunque un po' meglio Di come è stato fatto Finora Una cosa che migliora La qualità del film È la partecipazione Come attrice Susie Bacon Che è bravissima Secondo me È veramente molto brava Mi spiace che il film L'ho visto in italiano Perché Ho valutato Diciamo Come recitava Fisicamente Con le espressioni E col corpo Perché è la voce È la voce Di una Dopiatrice italiana Ho visto comunque Una recitazione Piuttosto buona Susie Bacon È la figlia di Kevin Bacon Se qualcuno Non lo conosce Può tranquillamente Uscire da questo canale E andare A fare altro Perché questo film È sbagliato Ma non del tutto E mi Mi costringe A non liquidarlo Come una cagata Questo è quello Che accade Ci sono degli elementi Che sono stati inseriti Che sono stati Gestiti In un certo modo Che mi costringono A non liquidarlo In 4 e 4 8 Come l'ennesima Cagata Di film Così Buttato sul mercato Tanto per spaventare Quattro ragazzini Uno Intanto perché il cast È un cast buono È un buon cast E Susie Bacon È brava È brava di brutto Perché È effettivamente Un horror psicologico Come non lo sono Quasi mai Questi film All'interno Della Diciamo Questa Questa sorta Di male Che c'è nel film Voglio dire Dirvelo in un altro modo Perché poi spoiler Si mescolerà Una sottotrama Legata all'infanzia Un'infanzia Difficile Della protagonista Veramente Un'infanzia Orrenda E questo già Rende molto più profondo Il film Rispetto ad altre pellicole E Il contatto Con questo male Si mescolerà Con i disturbi I problemi Mentali Psichici Di questa psichiatra Anche gli psichiatri Possono essere Un po' fuori di testa E devo dire Che Come è stata gestita È abbastanza È abbastanza interessante È interessante Molto interessante Il film è abbastanza lento Perché poi La storia Non è che sia Così profonda Diciamo La storia principale Non è così profonda È grazie al cielo Viene approfondito bene Il background familiare Della protagonista E i problemi Con la madre Psicotica E tutto si mescola Effettivamente Con L'aspetto orrorifico Soprannaturale E questo è molto bello Ci sono anche Altri due aspetti Interessanti Uno Che la colonna sonora Non è Male Allora Non sto parlando di Morricone Ragazzi Però Fa il suo dovere È una colonna sonora Che funziona Scena per scena E che Ti coinvolge Ed è molto Funzionale Ed efficace Per accompagnare Diciamo Lo stato psicotico Lo stato d'animo Della protagonista E Per assecondare Accompagnare Far funzionare bene Quelli che sono Purtroppo Ahimè L'innumerevole numero Di jumpscare Che ci succede Ce n'è un bel po' Ce n'è un bel po' E anche qui Mi trovo diviso Da una parte Sono troppi E alcuni Alla fine Risultano essere Troppi e ridicoli A un certo punto Non ne puoi più Ma da una parte Alcuni Sono Estremamente efficaci Io sono saltato per aria Un paio di volte Perché appunto Sono diretti bene Sono contestuali A quello che sta accadendo E funzionano Anche grazie appunto Al supporto emotivo Musicale Quindi funzionano Funzionano Ma dopo il terzo Il quarto Iniziano a girarti i coglioni E dici ok È un film Che pensa di doverti mettere Un jumpscare Ogni quindici minuti Non so Almeno da un certo punto In poi Sono dell'idea Che questo film Non piacerà A nessuno Delle persone Che cercano Un horror Con una storia Profonda Come può essere Un Midsommar O anche per esempio Un Ereditari Grazie Cronenberg Esatto Non vi piacerà Se siete quel tipo Di horrorofili Ma Se vi sono piaciuti Polaroid Obbligo verità O comunque Non vi hanno fatto schifo Questo Paragonato A quei film lì È un capolavoro Paragonato A tutti gli altri film Quelli che apprezzo io Non Non lo è assolutamente La cosa Che mi è piaciuta Nonostante appunto Sia un film Fatto Su quel binario lì Il regista Come scrittore Perché il film Se l'è scritto E come regista È riuscito comunque A mostrare Un aspetto Suo Artistico Interessante Intanto Un ragazzino Una persona Che comunque Ha poca Poca Cinematografia Sulle spalle Questo film Mi piacerà Si divertirà E ci sono anche Dei temi Interessanti Perché c'è un tema Di senso di colpa Di elaborazione Di traumi infantili C'è Un Una parte emotiva Molto forte Con una madre Comparsa Morta In giovane età Io apprezzo Questa cosa qua Questo elemento Purtroppo Non basta Salvare la pellicola Cioè Non basta A dire Questo film È un film Intelligente Fa benissimo Se avete voglia Di fare due salti Perché qualche salto Ve lo fa fare Perché Vi ho detto È bravo Alla fine a costruire Due o tre situazioni Di jumpscare Grazie appunto Al supporto Di una buona recitazione Una buona Regia Una buona scrittura Perché ci arrivi Tramite Una storia Che procede Abbastanza In modo Abbastanza credibile Con un ritmo Giusto Un ritmo lento Che serve proprio A rendere Tutto credibile E quindi funzionano Due o tre jumpscare Il problema Che poi La cosa sfugge di mano E diventano N.000 A un certo punto Succederanno cose Un po' grottesche Quasi al limite Del trash Come vediamo Nella scena Finale Del trailer Dove vediamo Questa testa Far così Da un certo punto Di vista Io la potrei giudicare Come un'operazione Assolutamente Cannata Perché Mi fa sorridere E forse Quello è l'intento Visto che il film Si chiama Smile Però devo dire Anche Che effettivamente Considerato Il contesto Del film E Il tema Anche psicologico E di Instabilità Psicologica Tutto ciò Che diventa Grottesco In realtà È plausibile In quanto È immaginazione E sull'immaginazione Nessuno può dire Un cazzo Nessuno può dire Quella cosa lì Non deve essere fatta così Perché così È ridicola Se uno Se uno Se la immagina così È così fine Quindi Da questo punto Di vista Anche tutto ciò Che diventa Grottesco Non lo è più Così tanto Contestualizzato Nella storia E anche per questo Poi alla fine Dico Un po' Si salva Sto film Non so se sono riuscito A farvi capire Che in realtà Il film Non mi è piaciuto Questa è il Questa è la disamina Altra cosa Un'altra cosa Che vi voglio far vedere Poi passiamo Ad altro Perché mi Mi ha incuriosito Mi ha fatto Mi è piaciuto Mi è piaciuto Anche il tema Dello Smile Cioè Del ridere Del ghigno Malefico Cosa che esisteva Già in Vabbè Esisteva Miliardi di film Precedenti Però Così accentuato C'era In Obbligo verità Ma in Obbligo verità È stato usato Un effetto speciale In post produzione Addirittura Mi verrebbe da dire Proprio In after effect Modificando Proprio Deformando L'immagine E veniva Un effetto Veramente Molto ridicolo Molto falso Molto finto Che era Straniante Non lo so Era molto Particolare In questo film Non viene usato Quell'effetto lì Qui sono attori Che Fanno Le facce Inquietanti E devo dire Che sono Abbastanza inquietanti Per pubblicizzare Il film Hanno fatto Una campagna Marketing Nella quale Hanno previsto Di posizionare Degli attori Durante una partita Di baseball Del campionato Americano Io volevo farvi vedere Questo video Dove Vediamo Guardate qua Hanno piazzato Degli attori Che Sono rimasti Così Dal certo punto Dalla faccia Normale Sono andati In fissa Si sono Vedete Questo qua Questo qua Devo dire Che è una cosa Che mi è sembrata Abbastanza carina Come operazione Pubblicitaria Non ci sono altre immagini Questo non c'entra niente Questo sorride Forse perché ha vinto la partita Deve essere un'esperienza bellissima A trovarselo accanto Sì 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 È proprio bella Io risponderei subito Non ci penserei un secondo Per me comunque è stata un'ottima esperienza Vedere Mi sarebbe piaciuto Vedere in inglese Vedere la figlia di Kevin Bacon Su Susie Bacon In Come si dice In questo film Mi è piaciuta Secondo me L'ha risollevato Sì 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 sì